è sempre triste dover dire addio a qualcuno e in questo caso la tristezza aumenta per il significato che ha avuto l'esperienza di franco bonprezzi giornalista disabile si amava definire il giornalista a rotelle instancabile animatore di tante realtà legate alla disabilità presidente della leda fondatore di tante iniziative editoriali ci ha lasciato quest'oggi 18 dicembre e lo ha fatto lottando con coraggio fino all'ultimo contro la malattia che lo aveva ormai rapito letteralmente sequestrato cos'è stato franco bonprezzi un testimone un testimone di come sia possibile da disabile essere pienamente cittadino e lottare con coraggio per i diritti dei più deboli lo ha fatto con grande consapevolezza delle fragilità da cui era affetto degli ostacoli che doveva superare ma anche con il coraggio di chi non si è mai tirato indietro e ha pagato in prima persona essendo testimone coraggioso di tutto questo diciamo addio a franco bonprezzi e ci mancherà lascerà un grande vuoto all'interno della dimensione sociale civile del nostro paese speriamo di poter essere degni della sua eredità grazie a tutti Grazie a tutti